Ben ritrovati nel nostro spazio di oggi, ecco che il protagonista della puntata odierna è Cristiano Malgioglio, noto autore di tante canzoni che sono diventate delle hit, brani che sono stati semplicemente scritti da lui come paroliere. Oggi la nostra attenzione va a Cocktail d'amore, una delle canzoni più amate di Malgioglio. Lui che nella vita ha fatto un po' di tutto, concorrente di reality, opinionista appunto, paroliere delle dive, cantautore, artista con un unico grande rimpianto, non avere mai fatto cinema ad alti livelli. Beh, parliamo proprio di lui, delle fasi della sua vita, non si può non raccontare l'importante ruolo proprio di paroliere o il suo essere un cantautore stimato e apprezzato, ma anche la sua attività più recente è certamente di opinionista. Va ricordato da dove arriva, nato in Sicilia, a Ramacca, paese di 10.000 abitanti, Malgioglio racconta di aver avuto un'infanzia serena. Ho avuto genitori meravigliosi, ha spiegato in un'intervista. Sua madre la definiva bellissima, attuale, con una mentalità molto aperta. Se mia madre oggi fosse viva sarebbe la donna più moderna d'Italia, ha spiegato. Era una persona molto affettuosa, per niente gelosa e soprattutto era stupenda. Però non voleva che lui faccesse questo lavoro che poi ha svolto perché sarei andato all'inferno. Mi diceva non diventerai mai Gianni Morandi e io replicavo non voglio diventare Morandi, voglio diventare Cristiano Malgioglio. Il padre invece, a detta dell'artista, era ombroso ma comunque è stato un grande padre, ha spiegato. Quando poi Malgioglio era un ragazzino, si preoccupava perché nella sua stanza c'erano ritagli di giornali e appeso c'era un ritratto di Marlon Brando. La madre diceva lascialo stare, credendo, crescendo cambierà, metterà le foto di Marilyn Monroe. Invece, ha spiegato sempre in intervista, non sono cambiato, solo cambiato le preferenze per gli attori. Ora, non amo più Marlon Brando come mio preferito, ma Channing Tatum. La discografia invece di Cristiano Malgioglio ha lasciato da parte, per così dire, le scaramucce di famiglia. Infatti, come solista, ha iniziato nel 1976 e vanta 30 album ufficiali composti interamente da inediti, tra i quali anche un disco live. Ma ci sono anche moltissime raccolte ristampe, spesso spacciate per album come album, anche se in realtà non lo sono, e che contengono brani già editi, riproposti in versione magari spagnola, oppure qualche nuovo arrangiamento, pur sempre però partendo da vecchi successi. Come parogliere poi ha cambiato il mondo dello spettacolo, lo sappiamo. Ha portato a successo numerosi artisti internazionali, tra i quali Mina, Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carradriano, Celentano, Dorie Ghezzi, Loretta Goggi, Pupo, Amanda Lear, Milva o ancora Monica Naranjo. Diciamo che dopo aver lasciato la Sicilia, aveva raggiunto la sorella a Genova e proprio lì aveva cominciato a conoscere e ad avere rapporti con Luigi Tenco e Gino Paoli, anche se quello significativo che darà la svolta alla sua carriera è quello con Fabrizio De Andrefu. Lui infatti, a fare in modo che Cristiano Malgioglio riuscisse ad affermarsi nel mondo dello spettacolo, gli procurò un colloquio con una casa discografica e lo portò poi a Milano. L'esordio come cantautore era arrivato infatti nel 1972 scrivendo Amo per Donatella Moretti. Da quel momento in poi la carriera di Malgioglio ha spiccato il volo. Beh, possiamo anche citare alcuni tra i brani più famosi che il paroliera ha scritto contribuendo a rendere anche migliore, per così dire, il mondo della musica italiana. Per esempio, Chi mi darà interpretato da Iva Zanicchi. O ancora, sempre dalla Zanicchi, Ciao cara come stai? Oppure Soli Noi, cantato da Juni Russo, o L'amore mi morde, mi vuole, o ancora Danzando, danzando, o L'importante è finire, e ancora, 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 cantate da Mina. Senza dimenticare naturalmente Cocktail d'amore, la nostra canzone protagonista di oggi, interpretata anche da Amanda Lire, sigla di chiusura di Tilt, varietà televisivo del 1979, tutto incentrato sul mondo della discoteca. E allora, eccola per voi.